Rassicurazione alla popolazione prima del sisma del 6 aprile. La presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà risarcire ben 30 parti civili per le rassicurazioni che furono fornite dall'allora vice capo della protezione civile Bernardo De Bernardinis, già condannato con sentenza passata ingiudicato a due anni di declusione alla popolazione. Braccio destro De Bernardinis, allora del capo della protezione civile Guido Bertolaso, assolto in un procedimento collaterale. La battaglia in sede civile è stata condotta da due legali del Foro dell'Aquila, Maria Teresa Di Rocco e Silvia Catalucci, che nel 2010 decisero di intraprendere la sede civile anziché penale e che ora hanno vinto questa scommessa. La presidenza dovrà risarcire i familiari delle vittime con una cifra che sfiora gli 8 milioni di euro. La battaglia legale ha appoggiato i suoi passi sulle risultanze del lavoro della Commissione Grandi Rischi, che si riunì in città il 31 marzo del 2009, 5 giorni prima della tragica scossa che distrusse la città, e in particolar modo sui messaggi rassicuranti forniti da chi aveva partecipato a quella riunione, alla popolazione aquilana, che invece da mesi sopportava quell'importante sciame sismico. Un risarcimento chiesto alla Presidenza perché la Commissione Grandi Rischi è un organo consultivo della stessa, un risarcimento che non sarà distribuito in parti uguali ma in base ai danni subiti. Una sentenza che di certo riapre uno spaccato importante. Uno dei passaggi importanti della sentenza è che Bernardo De Bernardinis aveva affermato a proposito dello sciame che non c'è pericolo. L'ho detto anche al sindaco, disse testualmente, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole, perciò uno scarico di energia continuo. Dichiarazioni ritenute in sede penale idonee ad incidere sul comportamento dei cittadini e conseguentemente, siccome frutto di negligenza, imperizia e imprudenza, anche affondare la responsabilità penale dello stesso e la conseguente condanna del responsabile civile odierno, convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime.